Scomodo è sicuramente prenderla a 90-91, che a Milano non si sa bene che cos'è. È un autobus che fa tutta la circonvallazione, è molto denso. No, scomodo è diciamo che è un po' anche la mia professione, in quanto come donna dirigo un dipartimento di comunicazione, ma ho un orientamento filosofico e sono circondata da creativi in un'accademia di belle arti, quindi è molto scomodo la mia posizione. Grazie a tutti.